Per essere più precisi e per avere chiarezza dei movimenti della mente, di quando se ne va, di quando va fuori. Quindi quando mettiamo la nostra attenzione su tutto il movimento respiratore dall'inizio alla fine, ci rendiamo conto che magari nel mezzo la mente scappa e dobbiamo riportarla dentro di noi. E oggi dovremmo provare a farlo seriamente, ma oggi voglio cambiare un po' la tecnica. Oggi provate a praticarla seriamente perché domani farò un piccolo cambio alla tecnica. E' un po' la scuola così velocemente. Quindi oggi mi raccomando impegnatevi con più attenzione alla posizione seduta. E' un po' la scuola di domani, mi raccomando impegno a intervenire? E' un po' la scuola di un gruppo, una scuola di unpa chiamare chiamato come già ma non sì. e la giornata di domani mi farebbe piacere se gruppi di cinque persone venissero da me per incontrarmi e incontrarci più di noi e magari ogni durante mentre gli altrimenti camminano al turno dei piccoli gruppi si alternano per farla conoscita e l'incontro tutti insieme al pomeriggio ci sarà ugualmente, solo che magari durante l'arco della giornata i gruppi andranno sembratamente da lui è una preparazione per domani perché voglio cambiare un po' la tecnica per essere più precise è una preparazione per lo giornata di domani e dove farò dei cambiamenti della tecnica ancora più precisi quindi andiamo a metterci e vi ringrazio adesso oggi ci parliamo e anche ho notato che tutti i nostri menti sono più o meno simili e adesso vi ringrazio che tutti i nostri menti sono simili e adesso vi ringrazio di tutto la prima volta e noi abbiamo visto come tutti i nostri menti sono più o meno simili quindi per non scappare e ritornare Piero ci siamo affermati al secondo punto e in ogni caso, è di overcomenza per farlo e in ogni caso, è di overcomenza non so, è di non sapevo e in ogni caso, è di overcomenza non so, è di non so è di non so Per la sensazione della sofferenza e dell'anomarchia. Dukkha è la sofferenza fisica. E lo scopo di questa ripasta è la sensazione della sofferenza e dell'anomarchia. Siamo sempre imparando la tecnica del Vipassana. Se vogliamo realizzare questa ripasta, dovremmo prendere ancora un mese. Per arrivare alla comprensione dell'abilità della Vipassana, dovremmo prendere più volte, molto di più, anche per un mese. Per la sensazione della sofferenza e dell'anomarchia. Per capire come cessare la sofferenza Dukkha in fisica. E come cessare la sofferenza mentale. La Vipassana sviluppa la comprensione. La comprensione è l'unica in grado di sostenere e affrontare la sofferenza fisica. e mentale. Perché quando non abbiamo la stangenza sufficiente, questa sofferenza mentale e fisica ci fa diventare matti. Siamo tornati a questa immagine perché voglio spiegarvi l'origine e la sofferenza. della sofferenza fisica e mentale bisogna mettere dal nostro corpo. And this picture, tomorrow also this picture will be a little bit new for your experiences. Già da domani questa immagine sarà già rinnovata dalle vostre esperienze. Some people think that I am a monk, I have a good life. Particularly the Mr. Hegel from Washington often said you have a good life. Can you change your life too? Alcune persone perché sono un monaco credano che abbiano vita molto felice. Actually I have some students like you in my mom's degree and they are like my children. Sometimes they are bad, they don't listen to me, they don't care what I said. Normally we are all the same if we feel the children doesn't listen to, they don't listen to the parents or the teacher and the student don't listen to the teacher. We lose our temper, we feel our angry. A volte tutti da genitori o da insegnanti quando i figli o gli studenti non ci stanno ascoltando possiamo perdere la nostra pazienza un po' e spazientirsi. Quella possiamo chiamare la sofferenza mentale. Dormi nassati nel Paolo. Dormi nassati. Dormi nassati. Forti. Dormi nassati Dormi nassati. Ora un material. Dormi in solo. Irmani site www.troojan.ca Grazie a tutti. 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 I'll tell you, people think that when you are meditating that they think you are trying to control the mind. It is not. I'll tell you, people think that meditation consists in control of the mind, but in reality it is not so. She really took it as a treasure. You lecture on control, but at first she didn't realize she's over-controlling until she... Today she listened to her limit and sometimes she stopped even before the bell rang. And she realized that that was only a minute before the bell rang. So today it is much more relaxed. And sometimes it depends on the way... Because the lecture is also connected with the practice, the lecture. Because the lecture when I give is a kind of cleaning the technique, brushing the practice up. And also kind of... And also kind of the Dhamma injection, sorry. So this is... So this is what I do... This keeps people practice better. And this helps people practice better. So I'm happy to hear this... So I'm happy to hear this... The first one I hear... This is a treat. The first one I hear... So... I hear... This one you hear... Yes. And I hear... I hear... Today she wasn't cold... or tired... It's a great day, right? I hear... 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 She managed to practice most of the time... mi sto ambientando e pian piano quando abbiamo inizio stamattina ha sentito com'è se fosse un miglior momento no, actually I don't think we are inizio I don't think we are inizio I don't think we are inizio